Sì, purtroppo stiamo attraversando un momento un po' particolare, anche se secondo me non meritiamo nella posizione che siamo in classifica, purtroppo il calcio è così, abbiamo raccolto molto poco in quanto abbiamo espresso sul campo e ora l'unica soluzione è fare un buon risultato ad Ascoli. L'anno scorso di questo periodo eravamo nella stessa situazione di classifica, purtroppo questi momenti li vivono un po' tutte le squadre, l'unica cosa importante è uscirne fuori, quindi magari se atterni la traversa di cabionetta sarebbe entrata, saremmo di parlare di altra cosa, purtroppo il calcio è questo e speriamo di fare un buon risultato ad Ascoli. Sprega anche più energie, perché magari anche come è successo sabato con l'Ivork, dopo essere passati in svantaggio abbiamo spregato tante energie per pareggiare la partita, poi come si è visto nel secondo tempo eravamo un po' calati e su questo dobbiamo migliorare, magari essere un po' più intelligenti, se non si può vincerla non la devi nemmeno perderla, ma il modulo lo decide l'allenatore come farci giocato, il morale è buono, è giusto che c'è un po' di dammarico perché comunque vieni da due sconfitte consecutive, però il gruppo c'è, l'entusiasmo c'è, quindi basta un risultato positivo sabato. Grazie.